Calcio piazzato di Anadai dalla sinistra, deviazione di testa di Gargiulo con il pallone che si alza a campanile. Interviene Genovese ma la sua ribattuta è corta. Tappi ben appostato a cento. Anzi, al ventunesimo i Granata raddoppiano. Conforto lanciato in area viene spinto alle spalle da Scienza e finisce a terra. Per il signor Calabretta di Catanzaro è rigore. Dagli undici metri trasforma De Vitis. Da questo momento la partita non ha...